Eccoli, eccoli, oh no, sono agguerriti, tutti e tre contro di me vogliono venire, ok fate pure, dai dai io vi combatto tutti e tre, non ho paura di niente e di nessuno, avete capito? Via tutti quanti, via, 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 ho detto devo vincere io questa partita, non voi, oh mio dio, oh mio dio, li ho battuti tutti e tre, non ci posso credere Ciao a tutti ragazzi, sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video delle Bad Wars, come potete ben vedere ho la skin di Halloween, non so sinceramente quando vi caricherò questo video Probabilmente Halloween sarà già finito ma io lo sto registrando il 19 ottobre e stiamo nelle 3 contro 3 perché l'ultimo video che ho fatto qua vi è piaciuto tantissimo Ho fatto tante tante uccisioni, se non sbaglio più di 30 e quindi sono contento che vi sia piaciuto, sono contento che l'avete supportato tutti quanti in tanti E scusa un attimo, ma questa mappa è nuova? Io questa mappa non l'ho mai giocata, è una mappa nuova delle 3 contro 3, oh mio dio non vedo l'ora di vincere allora anche qua E dimostrare a tutti quanti chi è il vero grande imperatore, Kendall Magno delle Bad Wars Sì questi sono tutti i miei nomi, proprio il mio primo nome è Kendall, poi c'ho il secondo nome, imperatore, poi terzo Magno, poi eccetera eccetera eccetera, beh avete capito insomma Io spero che i miei compagnetti siano svegli abbastanza per poter battere i nostri avversari, ma allora uno è Steve e l'altro è un maialino Io non ho nulla contro gli Steve, per carità, a me fanno ridere gli Steve solitamente perché hanno il faccino pucciosino e bellino Però diciamo che la maggior parte degli Steve, non tutti, non sono proprio dei grandissimi geni, non sono delle volpi Quindi va bene, allora se non altro loro sono intelligenti abbastanza e mi stanno regalando tutto quanto a me, sono contento di questo Prendiamoci subito una bella armatura, poi ci prenderemo anche una spada E adesso non dobbiamo far altro che continuare a prendere tanti altri diamanti perché nelle 3 contro 3 tutto costa molto ma molto di più Quindi la mela d'oro e credo sia arrivato il momento di andare a combattere tutti quanti Mettiamo questo qua, i blu, ecco i blu mi sembrano un pochettino dei ficcanaso, si stanno avvicinando un po' troppo a casa nostra Quindi adesso gliela faremo pagare, eh sì Allora, intanto quei diamanti li lascio là perché così se questi mi dovessero uccidere non li prendono loro Che sarebbe un grosso vantaggio per la squadra dei blu Quindi io lascio i diamanti là così se li vuole prendere un mio compagnetto se li può andare a prendere Nel frattempo i blu non si sono minimamente accorti della mia presenza Perfetto, proprio quello che ci serviva a noi E adesso possiamo andare ad ammazzarli anche se hanno protetto comunque il loro lettino Ma noi comunque non ci faremo fermare da una minima protezione becera in questo modo Quindi rompiamo tutto quanto, ta 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 Perfetto, il loro letto se n'è andato e questi mi stanno guardando Perché mi guardano? Cosa state facendo? Mi dovevate combattere prima quando non avevate la possibilità? Non adesso! Ok, comunque abbiamo eliminato tutta quanta la loro squadra E tu pure sei morta Ciao! Mi dispiace! Mi dispiace tantissimo! Ma i blu sono stati eliminati tutti quanti grazie a Kendal, l'imperatore Poverini, quasi mi dispiace ragazzi Credo fosse la loro prima partita Perché boh, non si sono nemmeno accorti che gli stavo rompendo il letto Che li stavo ammazzando tutti quanti Niente proprio, stavano dormendo Ma erano tanto belli, erano proprio belli bellini Se avessi potuto ragazzi avrei fatto pure team con loro per aiutarli Però non si può fare perché verresti bannato Allora, con otto adesso ci prendiamo una bella sharpness Ci abbiamo 26 di oro E con 26 di oro ci prendiamo tutti gli utensili Che ci possono servire per rompere i letti ai nostri avversari Questa partita è iniziata veramente alla grande Tra l'altro resta soltanto il team di rosso e un giallo Il giallo è appena morto Quindi siamo da soli contro i rossi I rossi forse sono svegli però Forse i rossi sono forti abbastanza E quindi ci daranno filo da torture Vedremo Vediamo un attimino che cosa sanno fare questi rossi Ora li vado a combattere io Oh uffi, uffi Andiamo ad ammazzare tutti i rossi Che non mi sembrano molto svegli a dire la verità Però vedremo Dai forse insomma Io ho comunque un bel po' di roba E se questa partita dovesse finire tipo adesso immediatamente Allora ne andiamo a fare subito dopo un'altra Allora ripeto ragazzi Io ho tutti gli utensili che mi servono per rompere il loro letto Quindi il loro letto se ne è andato E i rossi stanno qua dentro Che stanno anche loro dormendo Ma cosa sta succedendo oggi? Perché dormono tutti? Guardate lì Guardate ragazzi Stanno a dormere Questo chi attacca? Attacca l'aria Ok anche lui è morto E abbiamo vinto Non ci posso credere Quanto ci sono fa? Cinque Questa è stata tipo la partita Più veloce della storia Quanto ci ho messo? Quattro minuti a vincere E ho fatto quasi tutto io Ho eliminato due team così Ovviamente ragazzi Non vi potevo caricare Soltanto quella bedwars Perché vi sareste lamentati In centomila È durata pochissima È stata una bedwars record E adesso mi spiegate per quale motivo Io devo combattere con un compagnetto Mentre gli altri ne hanno due Cioè siamo Noi siamo due contro tre Ma non è giusto Non è proprio per nulla giusta questa cosa E tra l'altro Noi ora dobbiamo pagare le cose Ancora di più Perché siamo nelle tre contro tre Ma in realtà stiamo giocando in due Ma vi sembra giusto questo bug? Vabbè comunque non importa Perché lui non lo sa Ma è in partita con l'imperatore Quindi non avrà alcun problema A vincere questa partita No sta andando a casa nostra Ma cosa pensi di fare? Lascia stare il mio compagnetto Tu hai capito? Ora vengo io e ti ammazzo Guarda vai muori Perfetto L'abbiamo eliminato Ottimo Ora questo qua vi posso assicurare Al cento per cento Ecco un altro ne sta avvenendo Dicevo vi posso assicurare Al cento per cento Che quello cercherà di vendicarsi In qualche modo Guarda Oh tutti qua No tranquilli che c'è una festa Non vi preoccupate Tutti qua tranquilli Sì 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 Vai 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 Aspettiamo tutti quanti vi invitiamo No no Va vai vai Fai pure Sì anche tu Vieni forza Morite Stupidi Tutti qua contro di noi Stanno venendo Soltanto perché siamo in due E si vogliono prendere gioco Di questo bug di Ipixel Allora sapete cosa Io ora visto che ho abbastanza materiali Ho sbagliato Non mi volevo comprare la spada Però fa niente Mi volevo comprare in realtà L'armatura Però Visto che abbiamo la spada Ci teniamo la spada Prendiamo un altro pochettino di oro E poi ci facciamo anche l'armatura Dobbiamo soltanto stare attenti Che nessuno ora cerchi di venire Qua da noi a romperci il letto Dieci di oro Eccolo sta venendo quello là Sta venendo in rosso L'amico mio se ne è accorto no? No? Ehi Amico mio sveglia Ha appena scritto Sono abbastanza sicuro Che ci stanno targettando Sì E tra l'altro Non sanno neanche Che sono uno youtuber Perché come vedete ragazzi Ho messo il nick Kendall Quindi non esce fuori Youtuber Che è colui che osserva Ma esce fuori MVP Kendall Comunque va bene Ci stanno targettando Perché noi siamo in due E loro sono tutti quanti in tre Quindi vogliono eliminarci Immediatamente Ma ciò non accadrà No perché state giocando Contro un imperatore Capito? E adesso vi faccio vedere io Per quale motivo Mi chiamano l'imperatore Ecco te lo faccio vedere Perché mi chiamano l'imperatore Ok Abbiamo ammazzato tutti quanti Se riesco Mi vado a prendere un altro Smeraldino Che dovrebbe essere qua Ottimo Ora ci esce una bella spada In diamante Perfetto Me ne torno a Casina Gli potrei dare qualcosa Anche il mio compagnetto Ma spero che ci stia già pensando lui A farsi un equipaggiamento Un pochettino migliore Perché io non posso Pensarci pure io Quattro smeraldi Quattro smeraldi Sono perfetti Per una bella spada In diamante L'altra ovviamente La metto all'interno Dell'ender chest Perché non si sa mai E adesso ci prendiamo Delle belle mele d'oro Ok Siamo messi molto molto bene Guardate questi No 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 Cavolo non me ne ero accorto Oh mio dio Non me ne ero accorto Che fosse qua No 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 Col cacchio che mi butti giù Hai capito? Muori 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 Oh mio dio L'ho ucciso L'ho ucciso l'ho ucciso l'ho ucciso Ok Sono ancora vivo Sono ancora vivo Va bene Siamo riusciti ad ammazzarlo Molto bene Questa partita sarà difficile Sono rimasto da solo Contro tre team E loro sono in tre Io invece sono da solo Come ho già detto Allora mi mangio un'altra mela d'oro Visto che ho abbastanza oro Me ne compro anche un'altra Perché mi potrebbe servire E adesso dobbiamo giocare in modo intelligente Dobbiamo aspettare Proprio il momento giusto Perché ora questi cercheranno Di venire di nuovo contro di me Per ammazzarmi Visto che io non ho il letto Quindi vediamo un pochettino Diamo un'occhiata Questo vuole salire qua No E' sceso giù Ma lo sa che sono qua Ma si che lo sa Lo sa no? Sta salendo le scale Oh è qua Ok potrei anche fare un bel salto Salto d'angelo E buttarmici addosso Per ammazzarlo Perché non dovrebbe essere troppo difficile Ma non sono abbastanza sicuro Che voglia venire contro di me adesso Mmm No Però io comunque lo faccio lo stesso Mi butto qua Poi mi mangio questa mela d'oro E adesso lo ammazziamo Oh hai fatto una cretinata A venire qua contro di me Eh sì Hai proprio sbagliato Ora io mi compro ovviamente Un'altra mela d'oro Perfetto E dobbiamo stare semplicemente Attenti ai nemici Questa partita Non vi posso assicurare Di vincerla Perché come vedete È molto molto difficile Oltre ad esserci comunque Dei player abbastanza discreti Io mi trovo da solo Senza letto Mentre gli altri hanno appunto Un grosso vantaggio su di me Se questo ora c'è una bomba carta Raga mi fa esplodere Mi fa fare un volo di 3000 metri Sta venendo Mi mangio la mela d'oro Ok Adesso voglio proprio vedere Cosa fai Oh no Oh no Cos'è successo Oh no Non mi riesci a battere E perché non mi riesci a battere Provo a provarci di nuovo Dai vieni di nuovo Forza combattimi Allora non ho molti blocchi Quindi dobbiamo stare attenti Ne ho soltanto 30 E non mi va di tornare indietro A comprarli Però voglio stare assolutamente Al centro Per prendermi Del Per prendermi degli altri smeraldi Per farmi l'armatura In diamante Questo nel frattempo Continua Vuole venire di nuovo Contro di me Io faccio finta di non vederlo Così che Mi viene contro Vediamo Verrà Sì No sta andando a casa mia Non si è accorto che mi trovo qua Ciao Buongiorno Buongiorno Io sono qua Sì sono io Kendal Fatti un bel volo Tutti loro ragazzi Hanno il letto tranne me Quindi io non posso restare qua O posso Ci resto? Stanno venendo in due Oh cacchio No 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 Conviene scappare Conviene scappare Devo tornare immediatamente a casa mia Sì 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 Devo essere il più veloce possibile Così Va 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 Una furia Una furia Kendal Una furia Ok mi sono buttato Perfetto ce le ho dietro Ce le ho dietro alle calcagne Ora è arrivato il momento di combatterli entrambi Oh no Oh no 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 Si mette male Si mette male Si mette molto molto male Però forse ce la posso fare Dai 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 Uno Nooo C'aveva tipo Un cuore e mezzo Dai non ci Guardate c'avevo un cuore e mezzo Proprio rimasto Eh purtroppo io c'avevo uno svantaggio Veramente incredibile In questa partita Non solo il mio team Era formato da due Quindi da me Il mio compagnetto Mentre gli altri erano tutti in tre Ma poi sono venuti tutti contro di noi Comunque ragazzi Spero vi sia piaciuto questo video Perché la prima partita L'abbiamo vinta in tempo record In pochissimi secondi Mentre l'altra è stata Molto molto adrenalinica Mi sono divertito tantissimo Lasciate un bel mi piace Se vi è piaciuto questa bedwars Dal vostro imperatore Kendall è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao